È chiaro che oggi noi siamo una cosa diversa rispetto al Partito Democratico. Non a caso abbiamo creato un partito nuovo, Italia Viva, abbiamo creato una proposta con il Tarso Polo insieme a Calenda ad Azione per essere alternativi a un PD che noi non riconosciamo più. Un PD che in un momento di difficoltà per il Paese propone di aumentare le tasse, un PD che propone di bloccare quegli impianti, quelle opere necessarie per far pagare meno la bolletta agli italiani perché al di là delle misure urgenti di cui stiamo parlando, indispensabili, dobbiamo anche pensare a come sì aumentare le rinnovabili ma come anche estrarre più gas italiano e tutto quello che abbiamo fatto al governo purtroppo è sempre stato osteggiato da tutti, dalla destra, dal Movimento 5 Stelle, dalla sinistra radicale. Il PD sembra inseguire Conte diventando la copia sbiadita del 5 Stelle della sinistra estrema.